Io spero di poter dare un contributo in termini di gestione manageriale dell'ente perché anche un ente come il Teatro Stabia di Catania ha la necessità, io direi, la indispensabilità di una gestione di tipo manageriale. Un'altra cosa è la direzione artistica che attiene invece al direttore artistico dell'ente. Tra breve all'insediamento, quindi alla prima riunione della CDA, si riparte con un nuovo slancio? Naturalmente, al primo posto la situazione difficile dei lavoratori che da alcuni mesi non percepiscono questo momento, questo è il nostro primo pensiero. Poi da sistemare la nuova stagione teatrale, quella che in atto va a chiudersi comunque con ottimi risultati? Sì, dal punto di vista artistico lo Stabia di Catania non ha bisogno di un rilancio perché anche la stagione in corso riscuote un grosso successo di critica e di pubblico. dobbiamo continuare così.